Nome? Luigi. Cognome? Cippone. Età? Venti. Città natale? Bari, bari. Lavoro? Lavoro, faccio il francazzista. Ti piace essere bartender freestyle? Sì, però se già me la faccio giusto per hobby, se avevo in tanto, però... Ok, cosa ti piace del tuo lavoro? Eh? Cosa ti piace? Bevo gratis, conosco ragazze, cresce tutto. I tuoi hobby? Il nome del tuo cocktail Absolute? Eeeh, un voto di mezzo. Absolute. E' be' buono comunque. Perché dovresti vincere tu? Ma mi state guardando, ovvio no? Io sono fuori. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Non mi seguite più. Fai un saluto. Ciao.